Che cosa è l'intolleranza all'istamina? Le persone con un'intolleranza all'istamina hanno sintomi simili a quelli di una reazione allergica quando consumano alimenti che contengono alti livelli di istamina. Il corpo produce naturalmente degli enzimi che aiutano ad abbattere l'istamina, ma quelle con un'intolleranza istamini che hanno livelli più bassi di questi enzimi. Dal momento che il corpo non può abbattere l'istamina correttamente e rapidamente se non ha abbastanza di questi enzimi, possono accumularsi alti livelli di istamina, portando a molti sintomi diversi. Gli effetti collaterali più comuni dell'intolleranza all'istamina sono l'orticaria, la congestione nasale, il gonfiore del viso, il mal di testa, la diarrea e il bruciore di stomaco. Alcune persone presentano sintomi più gravi, tra cui aumento della frequenza cardiaca, dolore toracico, attacchi d'asma o attacchi di panico. Questi sintomi possono essere indicativi di molte altre condizioni diverse dall'intolleranza dell'istamina, quindi la condizione potrebbe essere difficile da diagnosticare. I sintomi di solito appaiono come l'istamina si accumula gradualmente nel corpo, quindi i medici che sospettano che un paziente ha un'intolleranza all'istamina di solito mettono il paziente su una dieta a bassa istamina per diverse settimane per vedere se i sintomi migliorano dopo aver escluso condizioni più gravi. Una dieta priva di istamina è la principale forma di trattamento per i pazienti con diagnosi di intolleranza all'istamina. È importante che i pazienti comunichino ai loro medici eventuali farmaci che assumono attualmente, dal momento che alcuni farmaci possono influenzare negativamente la funzione degli enzimi che metabolizzano l'istamina. Le vitamine C e B6 sono anche utili perché incoraggiano la diamina ossida C, uno dei principali enzimi responsabili della decomposizione dell'istamina. Gli antistaminici da banco e da prescrizione sono utili per i pazienti con intolleranza in quanto possono aiutare a ridurre i sintomi e possono prevenire i sintomi se il paziente mangia per errore un cibo ad alto contenuto di istamina. Gli alimenti trasformati e fermentati sono il più grande gruppo di cibi ricchi di istamina e dovrebbero essere evitati interamente da coloro che soffrono di intolleranza. Formaggi fermentati, salsa di soia e prodotti vegetali fermentati, come i crauti, possono scatenare tutti i sintomi. Molte carni, pollame e pesce sono anche ricchi di istamina e pollo, molluschi, salsicce e prosciutto sono i principali responsabili. Spinaci e pomodori contengono alti livelli di istamina, ma la maggior parte degli altri frutti e verdure sono sicuri. I pazienti che seguono rigorose diete prive di istamina dovrebbero anche evitare gli agrumi. Questi frutti in realtà non contengono istamina, ma possono far sì che il corpo rilasci naturalmente più istamina. Il vino rosso contiene alti livelli di istamina e dovrebbe essere evitato dai pazienti con intolleranza all'istamina. Inoltre, qualsiasi tipo di alcol può ridurre l'attività della diamina ossidasi. I pazienti devono evitare completamente l'alcol se presentano ancora sintomi di intolleranza dopo aver tagliato i cibi contenenti istamina e il vino rosso dalla loro dieta. I pazienti devono evitare l'attività della diamina ossidata. I pazienti devono evitare l'attività della diamina ossidata.